La sostenibilità del fermo biologico in relazione al blocco delle attività determinato dalla pandemia, l'accessibilità nel rispetto delle regole alla cosiddetta fossa di pomo, la procedura riferita ai rimborsi, agli indennizi e ai pagamenti spettanti alla marineria di Pescara, l'integrazione della capacità pensionistica nel mondo del lavoro della pesca. Sono stati questi alcuni dei temi trattati questa mattina a Pescara in un incontro organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso alla presenza del sottosegretario al Ministero delle politiche agricole forestali e alimentari Giuseppe Labate che ha incontrato i rappresentanti dei pescatori della marineria adriatica. Noi stiamo lavorando insediando un dossier tecnico fatto anche nutrire dal punto di vista tecnico dello zoo profilattico di Teramo per fare sì che lo stop delle attività imposto dalla pandemia in una condizione di autodeterminazione dei pescatori di questa parte dell'adriatico, tra l'altro certificato questo stop anche dall'autorità marittima, dalla capitaneria, possa andare a scomputo del fermo biologico imposto dalla normativa. La seconda questione che vogliamo vedere con lui e con le rappresentanze della marineria è fare in modo che non ci siano più ritardi nel riconoscimento delle competenze economiche dovute a questa complicata attività, questa categoria che vive con molto dolore il suo lavoro. Ci sono pendenze che risalgono a 24 mesi fa, 14 mesi fa. La terza questione è provare a facilitare l'accesso alla fossa di pomo nel quadro del rispetto delle regole. È una fossa molto piena dal punto di vista proprio del giacimento della natura dell'acqua per ciò che interessa i pescatori e noi vorremmo capire se è possibile. La quarta questione che è molto nostra di eletti in Parlamento e con poca fiducia da parte delle maestranze della pesca provare ad alzare le competenze economiche riferite alla pensione degli operatori della pesca. In conferenza Stato-Regioni a breve andrà un decreto che darà la possibilità alle regioni di poter utilizzare i soldi del FEAMP per poter erogare dei contributi a sostegno del settore che ha subito evidentemente il fermo non biologico ma a causa della pandemia. Ed inoltre il governo ha stanziato 20 milioni di euro nel Curitalia proprio per dare un supporto alla nostra marineria.